Le associazioni del settore edile delle costruzioni e i sindacati sono stati convocati a Palazzo Vitale dai vertici della regione per illustrare la riprogrammazione dei fondi comunitari destinati a interventi su strade e ferrovia. Ci sono 91 milioni di euro della vecchia riprogrammazione da impegnare entro il 31 dicembre di quest'anno. Il coinvolgimento delle associazioni in questa fase è stato giudicato positivo dall'ACEM. Chiaramente nel merito dovremmo dare un'occhiata per capire bene tutte le situazioni. Il punto di partenza è quello sicuro che si parte dalle opere incompiute. Cerchiamo di portare a termine qualche opera per poterla dare ai cittadini. Uno degli aspetti da considerare è la modifica delle regole per gli appalti come è stato sottolineato da più parti. Qualcosa c'è da rivedere, un piccolo volano, forse un volano c'è stato prima di Natale con l'appalto degli accordi di programma relativamente alla ricostruzione, però la gestione deve essere fatta in modo diverso per il 2015 per la ricostruzione. Quello che balza agli occhi in questa rimodulazione dei fondi è l'assenza però di interventi specifici sulla pericolosità delle strade su Bifernina, Trignina, Statale 85 Venafrana e la Statale 17, da Isernia verso Boiano e Campobasso. Ma non solo, sono tanti, troppi gli incidenti, anche mortali, un pauroso e preoccupante incremento negli ultimi tempi. Un intervento serio e deciso urge. Beh, questo è sotto gli occhi di tutti. Abbiamo avuto e abbiamo un patrimonio, come dire, stradale molto degradato e molto... al quale è stata fatta poca manutenzione e chiaramente questo non giova a favore. Ora bisogna ricominciare da, come dire, non dico da capo, ma da quello che abbiamo, fare il punto della situazione per poter avere strade migliori e poter far muovere i cittadini all'interno della regione, altrimenti rimaneremo sempre chiusi in questa regione senza sbocchi esterni.